Buongiorno a tutti, siamo al comune di Monte di Procida e stamattina ufficialmente consegniamo il vestito della montesina americana al nostro amico Ciro Schiano. Perché consegniamo questo vestito? Perché da quest'anno tutte le manifestazioni che ci saranno in America saranno rappresentate da Sabrina Como, la prima montesina americana. A fianco a Sabrina c'è anche a Sacola Andrea, la montesina 2018. Quindi ufficialmente possiamo dire che apriamo questo ponte con l'America, io sono con il gruppo Lione San Giuseppe, con il sindaco per iniziare questa avventura con l'America. A questo punto io direi due parole con Ciro, il nostro amico che ci dirà due parole per gli eventi che avverranno in America appunto con Sabrina. Allora io sto con il nostro amico Ciro che appunto ci dirà un po' i progetti futuri inerenti alla montesina in America. Innanzitutto un onore da parte del comune di Monte di Procida e dell'associazione Lione San Giuseppe affidarti questo costume e questa ragazza. Allora qualche progetto futuro progettato? La prima cosa voglio ringraziare tutti voi per questa occasione, a queste due belle ragazze, al vostro sindaco, al comune. Sì, la festa dei Montesi non si fa più come una volta, ma stiamo cercando di rifare un'altra volta. La Montesina verrà per la prima volta in America con Sinto che è in autunno, in cui lei riceverà un servizio fotografico a Manhattan, a Times Square, a New York, per la prima volta. E poi nel seguo tutte le feste che ci saranno sarà presente. Noi ti ringraziamo Ciro. Ufficialmente possiamo dirvi che da domani nascerà anche un sito web su Facebook, la Montesina. Quindi tutti gli eventi della Montesina di quest'anno e della Montesina in America saranno tutto in questa nuova pagina. A questo punto io do la parola al nostro sindaco Peppe Pugliese perché anche lui ha da dirci qualcosa. Allora, innanzitutto colgo l'occasione del primo evento ufficiale, del primo incontro ufficiale con l'Associazione San Giuseppe per ringraziarli. Per ringraziarli sentitamente. Il Paese ha apprezzato tantissimo la serata fatta ad Acqua Morta, apprezzato in maniera veramente incredibile. Quindi ritenevo doveroso alla prima occasione ufficiale ringraziarvi sentitamente. È stata una serata dall'altissimo valore culturale e quindi non mi meraviglia se anche la nostra comunità americana, io lo dico più volte, mi sento il sindaco di una doppia comunità, una residente qui ed un'altra nel mondo, che hanno una fortissima rappresentanza negli Stati Uniti d'America. Ebbene, non è un caso che i montesi che risiedono negli Stati Uniti d'America hanno guardato con attenzione alla Montesina e al vostro percorso culturale. Quindi è una cosa molto interessante. Quando mi capita di andare negli Stati Uniti, ciò che ci unisce è la nostra identità. Si parla dei luoghi tipici di Monte di Procida, dei nostri paesaggi, dei nostri piatti tipici. Si parla della nostra cultura e della nostra identità. Quindi la Montesina può essere un perno attorno al quale fa ruotare una nuova riscoperta dell'identità montese, un nuovo lavoro di approfondimento. Quindi vi sono grato per questa cosa e sono contento che durante una mia visita ufficiale ci sarà modo e ci sarà spazio per esaltare anche il percorso che avete fatto insieme e queste belle ragazze che saranno ambasciatrici nel mondo della cultura montese. Grazie, grazie di cuore. Grazie.